La Talpa Who is the Mole, il reality show di punta di Mediaset, ha avuto un inizio promettente ma deludente. La prima puntata ha registrato 2250 telespettatori e un 14,04% di share, ma i numeri sono rapidamente scesi nelle settimane successive. Il 18 novembre gli ascolti sono crollati a soli 1.562.000 telespettatori e un misero 10,57% di share. Le ragioni di questo declino sono da ricercare nelle scelte editoriali adottate da Mediaset. Gli spettatori si aspettavano un programma con dibattiti in studio e televoto, ma la Talpa è stata registrata in anticipo e montata, mancando di interazione diretta con il pubblico. La situazione critica ha portato i vertici della rete a considerare di chiudere anticipatamente la trasmissione, accorpando le puntate rimanenti. La finale potrebbe essere anticipata al 25 novembre o al 2 dicembre. Questa decisione è un chiaro segnale della volontà di porre rimedio a un possibile flop che potrebbe danneggiare l'immagine della rete. Un altro elemento da considerare è il ruolo di Diletta Leotta, la conduttrice del programma. La sua performance è stata giudicata deludente, contribuendo alla percezione negativa del programma. La maniscrizione accorti poco in Verl James, una conduzione non all'altezza potrei esportare ai fini.